Adolf Hitler Alois Hitler sposò a 48 anni e dopo due matrimoni Clara Polzl, una giovanissima cugina. Da questa coppia il 20 aprile 1889 nel piccolo villaggio di Braunau sul confine austro-bavarese nacque Adolf Hitler. Il padre era un impiegato della Dogana, la madre una casalinga infelice per il suo matrimonio. I rapporti di Adolf Hitler con suo padre, uomo rigido e autoritario, furono conflittuali. Egli stesso raccontò degli scontri con il vecchio padre che voleva imporgli una carriera da impiegato statale. Forse da questo rifiuto derivarono i suoi disastrosi risultati scolastici e l'abbandono precoce degli studi. A scuola il suo comportamento era requieto, talvolta aggressivo. Dai giudizi di alcuni insegnanti risulta che era attaccabrighe e testardo, presuntuoso e di cattivo carattere, incapace di sottomettersi alla disciplina scolastica. Fu invece precoce il suo interesse per la politica e per il nazionalismo pan-tedesco. Amava le antiche leggende germaniche, i miti pagani, i personaggi gloriosi della storia tedesca, ascoltava la musica di Wagner. Odiava il plurinazionale impero austro-ungarico e tutte le razze non germaniche. Abbracciò le teorie antisemite e le arricchì di espressioni tratte sia dalla biologia razziale che dalla parassitologia. Gli ebrei, oltre che stranieri e materialisti, erano per lui la tubercolosi dei popoli. A 16 anni, insomma, Hitler era già l'uomo che l'Europa conobbe, un fanatico nazionalista germanico. Nel 1906, dopo la morte dei suoi genitori, Hitler si trasferì a Vienna. Iniziarono gli anni più duri della sua vita. Era in miseria, solo. Vagabondava per la città, vivendo di espedienti. Fece il manovale nei cantieri edili, spalò la neve, lavorò come facchino alla stazione. Quando gli capitavano le occasioni migliori, dipingeva cartoline e manifesti pubblicitari per qualche bottega. Ma aveva 18 anni ed era pieno di speranza. Sognava ancora di diventare un artista famoso. Per quattro anni consecutivi cercò di entrare all'Accademia di Belle Arti, ma tutte le volte fu respinto per la sua mediocrità. Scarse attitudini, prova di disegno insufficiente. Fu il verdetto della commissione esaminatrice. Osservando le grandi manifestazioni di piazza dei lavoratori viennesi, Hitler comprese che il successo nella politica dipendeva dalla capacità di orientare il consenso delle folle. I socialisti avevano saputo creare un movimento di massa, avevano imparato l'arte della propaganda. Al contrario, il maggior difetto del partito pan-germanista era l'incapacità di risvegliare le masse. Hitler non si impegnò ancora nella politica attiva, ma iniziò a esercitare la sua oratoria davanti a auditori occasionali, nei dormitori pubblici e nelle mense popolari. Aveva un talento naturale, unico, che contribuì in grande misura al suo successo. Nel 1913 Hitler si trasferì a Monaco. Aveva 24 anni, non era riuscito a diventare né pittore né architetto. Non aveva amici né un lavoro né una casa, non era altro che un vagabondo eccentrico. Aveva già maturato l'idea che la razza padrona dei tedeschi avesse il compito di dominare le razze inferiori, provava un odio viscerale per la democrazia e il parlamentarismo. Era animato da un'irriducibile fiducia in se stesso e dalla profonda convinzione di avere una missione da compiere. Quando nel 1914 scoppiò la guerra si offrì volontario. Si arruolò nell'esercito tedesco perché odiava servire quell'austriaco a fianco di ebrei, slavi e altre minoranze etniche. La guerra fu per lui la grande occasione. Finalmente poteva lottare per la sua amata patria d'adozione, soprattutto, poteva superare gli insuccessi e le frustrazioni degli anni precedenti. Adolf Hitler fu un soldato coraggioso. Fu ferito due volte e decorato al valore con la croce di ferro, la più alta onorificenza militare, che egli portò con orgoglio fino alla fine della sua vita. Era tuttavia un soldato strano. A differenza degli altri commilitoni, non riceveva mai lettere né pacchi da casa, non chiedeva mai licenze, non dimostrava alcun interesse per le ragazze, non brontolava mai per la sporcizia, i pidocchi, il fango e il tanfo delle trincee. Alcuni compagni lo descrivono in preda a vere crisi di nervi. Lo si vedeva dapprima immerso nei suoi pensieri con le mani sulla testa e all'improvviso scattare in vendo contro i nemici interni del popolo tedesco, gli ebrei e i marxisti. Si può comprendere come Hitler interpretò la sconfitta tedesca e la fuga del Kaiser, pianse disperatamente e la definì la più grande ignominia del secolo. Da quell'esperienza Hitler prese coscienza del proprio destino e decise di consacrarsi alla politica. Finita la guerra, Hitler trovò impiego nella sezione stampa e propaganda delle forze armate e fu assegnato all'istruzione delle truppe. Fu un incarico importante perché in questa circostanza Hitler comprese che poteva sfruttare il suo talento oratorio. Nel settembre del XIX venne a contatto con il Partito dei Lavoratori Tedeschi, una piccola formazione politica nata da poco. Lesse gli iscritti del suo fondatore e vi riconobbe molte delle proprie idee. Partecipò alle riunioni di quel gruppo di poveri diavoli nel retro bottega di una birreria e in poco tempo raggiunse una posizione di primo piano. Un anno dopo prese le redini del partito e lo ribattezzò Partito Nazional Socialista Tedesco dei Lavoratori. Hitler inventò la bandiera con il simbolo della svastica. Scelse i colori e il simbolo con un preciso significato. Il rosso rappresentava l'idea socialista del movimento. Il bianco, la nazione. La svastica, la missione per la vittoria dell'uomo ariano. Disegnò gli standardi con la svastica e la corona d'argento sormontata da un'aquila da portare alla donate. Anche la bandiera quadrata con il motto Ridesta di Germania fu opera sua. Non era certo arte, ma dal punto di vista della propaganda tutto questo si rivelò molto efficace. Le successive vicende biografiche e personali di Hitler coincidono con la storia della Germania, fino alla morte e suicida nel bunker della cancelleria del Reich il 30 aprile 1945, insieme a Eva Braun, sua compagna dagli inizi degli anni trenta e che aveva sposato solo il giorno prima.